L'esigenza di scrivere questo libro è venuta anche dal fatto che vogliamo fare un po' di pulizia fra tutte le mode che ci sono esistenti su diete più o meno strane. Diciamo che tutte hanno una mission, cioè tendono in qualche maniera a cambiare il microbiota, a variarlo in qualche maniera e questo diciamo che ha un senso perché il fatto di avere sempre lo stesso cibo per di più inquinato ovviamente può portare a una selezione naturale delle colonie batteriche che sono nel nostro corpo, che non è detto che siano quelle più salubri per noi, quelle che ci necessitano. Quindi questo libro scritto a quattro mani ha proprio questo significato, affrontare il discorso di un cibo sicuro e salutare visto da più punti di vista, il punto di vista del chimico, farmacologo, del bioingegnere, del dietologo, di chi poi prepara questi cibi. Perché quello che noi vogliamo dare è una visione a 360 gradi di che cos'è il cibo e di che cosa serve al nostro corpo per stare bene. Quindi la finalità ultima è quella di dare dei concetti base che poi l'individuo può utilizzare per fare una lunga vita sana.